È un'occasione per migliorare e innovare la casa della cultura fanese, strizzando l'occhio ad una gestione più sana e virtuosa. Il Teatro della Fortuna sarà infatti oggetto di lavori di efficientamento energetico focalizzati sull'impiantistica, grazie ad un bando da 400.000 euro legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A questi si aggiungono altri 250.000 euro messi a disposizione dal Comune. L'intervento andrà a diminuire notevolmente i costi di luce gas. Ad oggi, a seconda delle stagioni e degli eventi che si svolgono a teatro, le bollette si aggirano attorno ai 13-14.000 euro, fino ad arrivare a 25.000 euro al mese. L'edificio storico, che si articola su cinque piani, dal seminterrato al sottotetto, ha una superficie di 3.800 metri quadrati e un volume di oltre 28.000 metri cubi. Saranno tutti interventi di efficientamento energetico e si concentreranno prevalentemente nella parte della centrale tecnologica situata nel sottotetto del teatro e consisteranno nella sostituzione di una pompa di calore esistente, che andrà a sostituire quella esistente non più performante, nella sostituzione delle due unità di trattamento aria, che sono a servizio della sala principale e della sala verdi, di alcune elettropompe per migliorare l'efficientamento energetico e la durabilità e nonché anche la manutenzione. Infine, per quanto riguarda la centrale termica, il bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria verrà sostituita da un'altra pompa di calore. Qui nel teatro, nella sala principale, il palcoscenico, attualmente è dotato di lampade alogene, che verranno tutte sostituite da lampade LED, ovviamente più performanti e di maggior durata. Infine, tutti i ventilconvettori, sia quelli delle sale che quelli dei foyer, della biglietteria, delle scale, verranno sostituiti da nuovi elementi, ovviamente più performanti, che ci consentiranno di raggiungere nel complesso degli interventi un efficientamento energetico di circa il 30%, passando da una classe energetica E a una classe energetica D. Presidente, qual è il cronoprogramma? Cominciamo da dicembre, fine dicembre si inizia il cantiere, gennaio-febbraio altri piccoli interventi, ovviamente che non vanno a disturbare la stagione di prosa, e poi da aprile, dopo il 16 aprile, che si chiude la stagione di prosa e anche di concerti, i lavori fino alla fine di agosto, per ritornare con l'auspicio di tutti, a settembre con tutta la sistemazione delle pratiche, eccetera, eccetera, e a ottobre ritornare a riaprire il teatro alla città. Presenti alla conferenza stampa anche l'assessore Brunori e il sindaco Seri, il quale ha ricordato il percorso avviato già da prima dell'emergenza energetica, amministrare, ha detto il primo cittadino, significa anche pianificare. Nel 2019, come ben sapete, siamo partiti con un progetto che riguardava l'efficientamento energetico degli edifici comunali, a seguito della pandemia l'abbiamo incrementato, e poi dopo l'abbiamo re-incrementato ulteriormente l'anno successivo, nel 2021, con Energy Manager e poi Ufficio Energia. Questo ci ha portato a fare delle diagnosi energetiche pronte, documenti che ci vogliono diversi mesi, e tra l'altro costano, ma grazie a questi progetti noi siamo riusciti ad ammortizzare i costi, grazie a questi incarichi, e quindi ci siamo ritrovati con il pacchetto pronto per poter affidare l'incarico di progettazione, per poter partire con una progettazione esecutiva di certi interventi di riqualificazione. Oltretutto i bandi non sarebbero stati accessibili senza le diagnosi energetiche, quindi vediamo che il tempo ci sta dando ragione su aver seminato in una certa direzione.